Cosa direbbero della loro mamma? Che mamma sei? Di solito dicono brava. Il più grande insomma cambia un pochino e dice che sono un po' rompi però di solito che sono brava. E su cosa rompi di più? Sui compiti. Tante verdure, cioè le verdure al forno queste cose proprio no. Ho provato l'altro giorno a fare il cavolo nero al forno, gli ho detto che erano delle patatine croccanti, però mi hanno detto le patatine sono gialle, quindi... Sono scegli. Dai, allora ascoltiamo. Vado. Prenditi il tuo tempo. Posso ogni tanto leggere? Cosa proprio da non fare. Ella tesoro mio, voglio confessarti un segreto, un grande segreto che ti aiuterà ad affrontare gli ostacoli a cui la vita vorrà sottoporti. Devi essere gentile e avere coraggio, me lo prometti? Brava, no davvero, brava. Me lo sono riguardato.